Sono miembro del sindicato di Topa, lavorando nel Departamento Nordico, e non abbiamo una riunione con la sede di Topa. E' un tour di noi, attraverso il punto di mettere il papel. Per noi, ci sono dei punti di preoccupazione, lo che non ci sta facendo, è un gruppo di cui ci sta facendo una messa per negociare. Lo abbiamo fatto, per me è il fece del dia 29, per ora che noi cominciamo la propria cogerenza di APA, per il quale è un aspetto di SEO, e non abbiamo una vista, per il quale è il punto che non ci sta facendo la messa, quindi la paziente non può cominciare a deliberare la cogerenza di APA, arriva il punto di preoccupazione, per il quale è il personale del Departamento Nordico.